Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dinkau e questa è la Masterclass di PowerPivot. Quest'oggi andremo ad affrontare una lezione veramente molto molto importante e forse anche un po' impegnativa. Vi chiedo di seguirla con attenzione perché probabilmente questa è la lezione più importante di tutto il corso. È inutile andare a fare approfondimenti di linguaggio DAX se non è chiaro come funziona il concetto di contesto valutativo perché andrete a creare dei modelli, delle formule un po' a casaccio sperando sempre di ottenere il risultato che vi aspettate però non riuscirete mai a fondo a capire ma perché il DAX mi sta restituendo questo valore c'è sempre un motivo perché c'è un ragionamento alla base di questa cosa qua che è appunto il contesto valutativo poi non è l'unica cosa da valutare però questa cosa qua è veramente molto importante. Quindi andiamo nel file di esempio e vediamo come funziona il modello che ho preparato per voi. Allora qui praticamente andiamo su PowerPivot, andiamo su Gestisci, che cosa ho fatto? Praticamente è vista a diagramma. Qui ho la tabella dei fatti che è qui centrale, ok? Dove l'ho unita, praticamente ho messo la data di consegna, di prevista consegna l'ho unita col campo data della mia tabella calendariale e così ho tutti gli attributi anagrafici del calendario se mi dovessero servire. Sulla destra ho una tabella dell'anagrafica con altri attributi del mio articolo quindi qui ho fatto un legame con l'articolo. Perfetto, adesso andiamo praticamente, anzi qui ho anche messo attributi quindi che magari appartengono alla tabella dell'anagrafica ma li ho messi sulla tabella del WIPA perché poi faremo qualche esempio e vediamo che cosa succede in base a quando io tiro giù un attributo da qua piuttosto che quando lo tiro giù da qui. Perfetto, adesso andiamo allora sul file Excel e iniziamo a fare le prime pivot e vediamo i risultati e cerchiamo di capire perché esiste, perché otteniamo questo tipo di risultati. Allora andiamo su Excel, creiamo la prima pivot Perfetto, siamo qui. Allora andiamo nella tabella di fatti ad esempio e ci tiriamo giù per esempio la famiglia e la mettiamo nelle colonne quindi nel momento in cui compiamo questa operazione lui tira giù il campo famiglia dalla tabella di fatti la mette sulle colonne ed esplode tutti gli attributi che lui trova all'interno di questa tabella adesso ad esempio andiamo sulla tabella del calendario e tiriamo giù il campo data e lo mettiamo nelle righe nel momento in cui facciamo questa operazione avviene la stessa cosa che è successa con il campo famiglia della tabella del WIP quindi il calendario è progettato per avere 4 anni di dati quindi vedete che lui qui esplode 4 anni di dati e mi tira giù tutte le informazioni che trova dentro l'attributo data quindi 4 anni anche se in realtà magari nel 2017 nella tabella dei fatti quella del WIP non ci sono informazioni quindi quando tirate giù le dimensioni senza mettere niente nel riquadro dei valori e le prendete da più tabelle lui farà sempre l'esplosione di tutto quello che trova all'interno di se stessa nel momento in cui andiamo nella tabella del WIP e ci tiriamo giù una quantità e la mettiamo nel riquadro dei valori in basso a destra vediamo che cosa succede io lo trascino lo mollo ecco che è successo che la pivot ha filtrato il campo data che è nella tabella calendario allora a questo punto voi potreste dirmi ok ma allora tutti i discorsi che mi hai fatto sul passaggio della frezzettina che da qui non posso fare un filtro che va alla tabella del calendario non sono veri perché mi avevo detto che qui la frezzettina è diretta di qua quindi il filtro passa sempre da qui a qui ma non va dai fatti a qui perché non ho la frezzettina bidirezionale attenzione a non fare un errore possiamo vederla in un'altra ottica quando noi facciamo una pivot e tiriamo giù il campo famiglia dalla tabella di fatti ok e poi tiriamo giù la data dalla tabella del calendario ok stiamo praticamente come dicendo guarda prendi la data e tiramela dentro nella tabella del WIP ok però non succede questo fin tanto che non tiro giù una quantità questo ve lo sto dicendo così per cercare di semplificarvi il ragionamento per cercare di capire di comprendere meglio che cosa avviene quindi quando io tiro giù la quantità nel riquadro dei valori lui applica un filtro ok a se stessa nel senso che se io nella tiro via un attimo la quantità vedete nel 17 io non ho una quantità non ho un valore quindi quando io non ho un valore è nullo e se il risultato della mia quantità è nulla mi elimina il record quindi viene applicato un filtro a livello di questa tabella qua quindi che cosa succede non è che lui perché vede la data prevista consegna mi dice boh adesso mi filtra tutto quello che c'è nella data prevista consegna perché ha tirato giù questa cosa qua succede una cosa similare sì ma diciamo che lui applica un filtro e mi elimina tutte le righe che sono nulle in realtà qua sotto ci sono ancora tutte le date del campo data però vengono filtrate in automatico dal fatto che il risultato della quantità che ho inserito nel riquadro dei valori è nullo non ha valore quindi se non ha valore scompare dalla mia tabella pivot perfetto spero che fin qui sia tutto chiaro sto cercando di farvelo il più semplice possibile quindi qui vado ad applicare un filtro ma non è che sto sparando il filtro all'altra tabella calendario ok lavora tutto dentro la tabella del whip quindi mi fa solo sparire delle righe però non ho fatto un filtro vero e proprio adesso per esempio proviamo a prendere un'altra informazione andiamo sull'anagrafica ci prendiamo ad esempio il tipo di prodotto lo mettiamo ad esempio nei filtri io qui adesso vado a farmi un filtro appunto nel campo dei filtri prendo ad esempio tutto quello che è vuoto perfetto mi prendo tutto quello che è vuoto adesso sì ho fatto un filtro ma che tipo di filtro ho fatto praticamente se andiamo a vedere il modello il campo del tipo prodotto arriva dall'anagrafica quindi nel momento in cui io sono andato a filtrare questa tabellina qui che cosa succede lui propaga questo filtro verso la tabella dei fatti che è qua perché vedete che va giù io sto tirando fuori una quantità da questa tabella qua ok però qui ho fatto un filtro quindi il filtro che ho applicato qua il risultato che ho applicato qua ok mi toglie delle righe dell'articolo perché ho preso solo il tipo prodotto che sono uguali a vuoto ok quindi gli articoli vengono esclusi da questa tabellina dove sono sole e vista di conseguenza vengono trasportati il filtro passa e viene trasportato ed applicato anche in questa tabellina che è diverso da quello che abbiamo appena visto ok perché io ho tirato giù un campo dal calendario e un campo dal whip e ho tirato giù una quantità ma non ho fatto un trasporto dei filtri ho semplicemente tirato giù la quantità e l'appivo di per sé non mi mostra le righe dove ho valore nullo sulla quantità che ho messo nell'area dei valori quindi mi filtra sempre questa tabella qua non va a fare un filtro fisico in questa tabella in questo caso che filtro appunto un campo che è sulla grafica o il filtro che va giù ok vado proprio a fare un filtro fisico questo filtro passa in automatico senza che voi facciate niente e arriva a questa tabella filtrando gli articoli che hanno questo valore che noi abbiamo filtrato è veramente importante questo concetto base quindi se noi prendiamo una quantità nella nostra tabella di fatti e poi noi con le tabelle di dimensioni facciamo altri che farò filtri anche con i campi delle dimensioni che mettiamo sulla tabella di fatti facciamo i filtri ma lavoriamo con oggetti di tipo quantità con campi o misure che lavorano su questa tabella qua funziona praticamente come noi ce lo aspettiamo quindi noi possiamo fare tutto quello che vogliamo anche l'unità di misura ce la mettiamo qua facciamo un filtro facciamo paia e sembra che tutto funzioni esattamente come noi ce lo aspettiamo ok quindi fin qui è tutto semplice adesso togliamo questo mettiamo questa modalità che è più comoda perfetto adesso andiamo a vedere un altro esempio dove quello che abbiamo appena visto decade totalmente e lì inizierete a chiedervi ma perché funziona così bene adesso andiamo ad approfondirlo allora facciamo un nuovo foglio e andiamo ci copiamo praticamente la pivot che abbiamo di qua e ce la mettiamo praticamente qui togliamo il filtro ci togliamo un po' di campi e rifacciamo praticamente tutta la nostra pivot perfetto adesso noi ci prendiamo praticamente ci prendiamo ad esempio il ci possiamo prendere il tipo di prodotto ad esempio vista sole poi ci facciamo un bel conteggio del colore ad esempio ecco vedete che quando io vado a fare il conteggio del colore anche qua parte e si applica un filtro quindi lui facendomi il conteggio sul colore che cosa mi trova? mi trova 285 righe e 282 righe su vista adesso magari mettiamo il tipo prodotto lo mettiamo in orizzontale se noi adesso cosa facciamo? andiamo sulla tabella del WIP dove ricordiamoci come funziona la connessione andiamo qui vediamo che noi stiamo facendo un conteggio di un campo che è dentro l'anagrafica adesso andiamo a prendere un campo che è nel WIP e qui ricordiamoci che abbiamo la freccettina che va solo in giù ok che cosa succede quando mi tiro giù ad esempio la famiglia nelle righe? ecco che compare il messaggio giallo che abbiamo visto nelle precedenti lezioni e lui qua mi ripete la stessa quantità per tutte le righe perché? perché non riesce a capire come funziona il legame tra la tabella del WIP e la tabella dell'anagrafica se io vado nel modello per esempio e cancello questa chiave qua la elimino proprio dal modello ho lo stesso identico risultato vedete? cioè lui non la sente è come proprio se non ci fosse la relazione tra le due tabelle quindi che ci sia la chiave o non ci sia la chiave quando abbiamo la freccettina che va solo da un verso quindi abbiamo la freccettina che va da qui a qui ok questa tabella non può comunicare cioè questa tabella qua non può comunicare con un filtro che arriva dalla WIP che comunque non è un filtro ma andiamo a vedere più nel dettaglio praticamente che cosa succede qui? noi che cosa succede con questa operazione? che praticamente qui abbiamo tutti gli attributi che sono nella tabella del WIP perché se vi ricordate all'inizio vi ho detto quando tirate giù un campo da una tabella lui esplode tutti i suoi attributi nella pivot e quando io tiro giù un campo quantità all'interno del box dei valori lui va e applica il filtro perché come funziona? il merge che appunto è qui ok che cosa fa? lui dice guarda fammi il conteggio di colore e poi mi filtri questa tabella qua con il conteggio di questa cosa e i vari filtri che posso averci fatto e poi da questa tabella ti tiri fuori solo le informazioni dove la chiave lega però lui non le può tirare fuori perché qui c'ha un blocco la freccettina va in giù quindi non le può estrarre da questa tabella e portarle qua ok il filtro viene fatto qua ma lui non può andare a prendersi l'informazione nella tabella del WIP e trasportarle qui perché l'informazione sta arrivando da qui ok non può arrivare qui nel modo filtrato perché appunto di qua non ci può passare per passare di qua dobbiamo utilizzare le due tecniche che abbiamo visto negli ultimi due video o anche altre tecniche ma restiamo su quelle che abbiamo visto per adesso quindi il crossfilter all oppure il tritas ad esempio se adesso noi andiamo qui ci facciamo una bella misura ok ci facciamo un conteggio di colore quindi andiamo qua ci facciamo una bella nuova misura molto velocemente la posizioniamo sulla tabella dell'anagrafica quindi count colore ok e qui andiamo e ci facciamo un bel calculate con il crossfilter sul colore quindi calculate per andare via veloci count colore anagrafica colore chiudiamo punto e virgola ok poi andiamo a capo facciamo un bel crossfilter perfetto di che cosa dell'articolo che sta sull'anagrafica con l'articolo che sta sul whip e gli diciamo bot come dicevamo in precedenza chiudiamo le tonde perfetto lo mettiamo in numero lo formatiamo ormai che ci siamo che sono sempre fissato io con queste cose diamolo ok ci tiriamo giù la misura ok qui è arrivato il count ok vedete che praticamente adesso io chiudo un pochino qua vedete che praticamente che cosa ha fatto il count io ho il colore ok che sta funzionando solo sull'f196 perché effettivamente il colore esiste solo per la famiglia per l'attributo f196 quindi se io tolgo il conteggio di colore quell'altro ok vediamo il risultato quindi vedete che adesso il filtro si è applicato mi ha tolto tutti i record che non hanno un attributo come risultato di vista e sole quindi mi fa vedere solo questo perché perché nel modello sono andato di lì guarda per questo conteggio che vado a fare qua ok che è comparsa qui la misura mi voglio anche tirare dentro informazioni che stanno sulla tabella di fatti che sono di qui però vado a fare la forzatura quindi quando questa tabella andrà a richiamare il risultato ok lei viene filtrata e va a richiamarsi le informazioni che stanno in questa tabella riesce andare a prenderle e a tirarsele dentro perché qui gli abbiamo dato la doppia di bidirezionalità quindi può anche andare verso se stessa ok se invece togliamo appunto il cross filter vediamo che appunto succede quello che abbiamo visto quindi lui non riesce a fare niente lui mi fa il conteggio per ogni attributo che esiste nella tabella dei fatti questo è veramente veramente molto importante si basti pensare se noi andiamo ad esempio questo modellino veramente molto semplice ma pensiamo se abbiamo magari tantissime tabelle e cominciamo a mettere due tabelle di fatti e magari le due tabelle di fatti le dobbiamo far comunicare tra loro e facendole comunicare avremo sicuramente la situazione molti a uno uno a molti quello che vedevamo col cross filter e quindi bisogna veramente fare attenzione come fanno i giri i dati come noi vogliamo far passare le informazioni tra una tabella all'altra in base al risultato che vogliamo ottenere dobbiamo veramente valutare come poi il dato viene trasportato quindi attenzione la bidirezionalità funziona così ok quindi io faccio un filtro qua lui si prende le informazioni che stanno qua basate sul filtro che è stato applicato qui se mi faccio un conteggio qui ok anche lui deve fare la stessa operazione andare a prendersi il filtro che è stato applicato qui e vuole tirarsi fuori solo le informazioni che esistono sulla relazione che ho creato che stanno su quella tabella ma se ho il filtro bidirezionale cioè ho il filtro che va verso il basso ok non posso andare a trasportare a tirarmi dentro l'informazione ok questo è un po' corredo di quello che abbiamo visto col cross filter e il tritas che in realtà il tritas come abbiamo visto è una cosa differente ancora perché filtriamo una tabella e filtriamo anche l'altra tabella con una forzatura con il DAX però mi ripeto scaricatevi questo modellino qua e fatevi qualche esercizio giocate con questa cosa qua vedete come funzionano i contesti magari provate a fare qualche esercizio in cui andate a lavorare anche sulle tre tabelle perché facciamo ancora una prova ad esempio tiriamo via ad esempio questo adesso io mi voglio tirare giù ad esempio le date che stanno dietro a queste informazioni qua anzi ci tiriamo giù ad esempio il mese me lo metto qua ecco che qui vedete che praticamente qui che cos'ho ho 3, 4, 5 qui vedete mi da sempre la segnalazione che non trova la relazione perché l'abbiamo cablata all'interno della misura ok però vedete che filtra 3, 4, 5 effettivamente il calendario viene filtrato ma perché viene filtrato perché qui ok la freccia ok punta verso la tabella di fatti quindi era solo questa da invertire perché in realtà poi quando questa riesce a comunicare con questa ok lui questa si è filtrata si prende tutte le informazioni che legano con l'articolo filtrato di questa tabella e se le tira dentro poi io tiro dentro un'informazione dal calendario però essendo che qui adesso la porta comunica io qua vado a cascata vado giù e entro anche sull'altra quindi in realtà anche quando tiro giù le informazioni da questa tabellina qua riesco a trasportare le mie informazioni a portarmele qui e non subentro nel fatto di avere magari le informazioni ripetute ad esempio qui non è il problema di avere il 285 ripetuto per tutti i mesi del mio campo mese sulla tabella calendario bisogna veramente fare attenzione a come girano appunto queste freccettine qua ok bene io mi fermerei qui poi sicuramente ci torneremo ancora sopra su questa cosa qua magari con modelli più complicati e vediamo il giro che fanno i dati perché mi ripeto ancora quando iniziamo ad avere tante tabelle tanti giri lui comunque prende sempre in automatico magari la strada più corta quindi bisogna fare attenzione a che giri fanno poi i richiami delle nostre informazioni adesso sono stato un po' vago su questo ultimo argomento lo capiremo più avanti però cercate veramente di capire come passa l'informazione come se la tira dentro eccetera eccetera bene forse sono stato un po' logoroico su sta cosa qua per dire due cose semplice mi sono dilugato fin troppo però è importante bene allora come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel like al video se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale se desiderate far crescere contribuire alla crescita di questo canale magari abbonatevi c'è scritto c'è il bottone proprio qua sotto il video abbonatevi anche a questo canale dando un sostegno mensile per la continuità del canale e la crescita di tutti i corsi che vado a portare all'interno del settore business intelligence con questo è tutto vi ringrazio molto per l'attenzione ci vediamo alla prossima lezione ciao